Sono molto contento e veramente lieto di potervi annunciare, cari colleghi, che il Consiglio di Presidenta, su mia proposta, ha nominato per acclamazione, quindi all'unanimità, il dottor Federico Tognato, segretario generale del Senato della Repubblica. Sono stati già individuati anche i vice che collaboreranno col segretario generale e che passano da due a quattro, sono stati individuati anche i nomi, spetterà adesso al più rapido possibile, confronto con i sindacati, dare completa definizione delle aree di riferimento e aggiungo che mi sarebbe piaciuto, ma l'aula era già chiusa sostanzialmente, poter oggi salutare dai palchi la dottoressa Serafin, ma l'ho invitata a farlo martedì prossimo per poter rivolgere un applauso dall'aula. Grazie intanto, rinnovo i complimenti e la fiducia al dottor Federico Tognato.